Questo desiderio che la comunicazione, come dice il Papa, crei prossimità, crei uno scambio, anche le difficoltà, le fatiche, anche i punti di vista diversi, sono vissuti in modo diverso. Diventano delle opportunità, prima ancora o più che ancora, degli ostacoli. Il Papa quest'anno, nell'indicare il tema della giornata, ha messo insieme due realtà, la realtà della comunicazione e la realtà della misericordia, in coerenza con l'anno giù di là. E non le ha semplicemente accostate, comunicazione e misericordia, ma ha detto anche quale potrebbe essere l'esito di questo accostamento. Comunicazione e misericordia, un incontro fecondo. Grazie. 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 Grazie.